buon poveriggio agenda politica verso le elezioni comunali oggi in compagnia di Maurizio Basso candidato sindaco del della lista Movimentiamoci insieme parleremo soprattutto della vicenda del tribunale parte la sigla e poi tra poco a parlarne con Maurizio Basso riaccoci benvenuto Maurizio buongiorno buongiorno a tutti allora pare che nell'ultima settimana non si parli di altro che del tribunale di Salerno della sua destinazione della tentativa di qualche imprenditore insomma di fare qualche manovra eh edilizia però Maurizio Basso prima di essere un candidato sindaco è anche un agente immobiliare no? Per cui che cosa hai fatto? Ci racconti un po' insomma una cosa che voi fate di routine però chiaramente che non possono fare tutti. Mario e infatti come dicevi tu e da giorni che sentiamo parlare di eh del tribunale ma io penso che sia più sciacallaggio politico infatti questa situazione mi sembra tanto eh quanto per buttare un po' di fumo negli occhi eh diciamo che questa è una tecnica politica amaramente consolidata ormai in città e anche questa volta è stata utilizzata in modo plateale ma veniamo all'ex tribunale l'ex tribunale come dicevo tu io da cento immobiliare posso spiegarvi la natura proprio del caso. Allora. Allora. Che cosa hai fatto? Eh che ho fatto? Ho fatto una semplice eh visura eh catastale. Eccola qui. E quindi il punto primo è che si vede si evince che la proprietà è del demanio dello Stato, ramo, grazia e giustizia. E fin qua non ci piove. Poi l'immobile giustamente sempre dalla visura vediamo che ha una consistenza di settantasei mila centocinquanta quattro metri cubi. Questo che significa. E tradotto 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 in metri eh quadrati perché insomma metri cubi. Benissimo. Che cosa eh si fa? Eh non avendo proprio i riferimenti e non entrando proprio nel dettaglio di una valutazione perché non è che ho fatto una valutazione del tribunale anche se ho se ho avuto in passato esperienza con la provincia a vendere i beni immobili ti dico che il tribunale è lungo circa ottanta metri lineari per largo cinquantasei. Facendo una semplice moltiplicazione arriviamo che ha una pianta di circa quattromila e cinquecento metri quadri a piano. E quanti piani siamo? Eh qui più o meno se andiamo ad occhio perché non possiamo entrare noi che stiamo andando lì a misurare abbiamo circa tredici quattordici mila metri quadri. Ok? Ok. Però. Ok. Però. L'altra cosa che. È una cosa importante. È una cosa importante. Cioè stiamo parlando di un patrimonio immobiliare di una certa importanza non solo storico ma anche di 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 quantità proprio di 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 metri quadri. E quindi il terzo punto dove è stato dichiarato ed è stato anche tra virgolette pubblicizzato eh sette milioni di euro. Mario. Però Maurizio aspetta prima di arrivare al valore no? Perché da questa visura che insomma tu hai fatto come chi ha accesso a questo portale può farlo. Qual è la destinazione d'uso? Cioè oggi il tribunale a che cosa per che cosa può servire? Allora la destinazione d'uso che oggi ha il tribunale è B4 quindi eh sono uffici. Allora la destinazione sono uffici. Ok? Quindi tecnicamente eh questo tribunale deve essere utilizzato per questo tipo di attività come era logicamente il tribunale. Quindi per fare tipo che ne so voglio dire abitazioni ecco perché eh sì parliamo di eh parliamo di quelle inutile che ci nascondiamo. C'è bisogno di un cambio di un cambio di destinazione. E chi lo fa il cambio? Eh il comune. Cioè deve autorizzare il comune. Quindi il comune io credo che non lo non lo autorizzerà mai o quantomeno ci vorrebbe una bella assemblea dove tutti i beni di una certa importanza che eh non si cambia il la destinazione. Quindi questo sarebbe stato già la prima eh cosa positiva che il comune poteva eh mettersi in eh mostra ecco diciamo guarda non state tranquilli che noi adesso facciamo una assemblea il cambio non lo abbiamo quindi non si fanno appartamenti. Questo è la il punto è la proprietà e del demanio ramo giustizia. C'è un vincolo sulla destinazione d'uso che solo il comune può cambiare. Sì. Che solo il comune. A meno che loro lo possono allora attenzione si può vendere e possono rimanere la stessa destinazione quindi il comune non lo ma però 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 poi arriviamo nel terzo punto ma cioè è logico io se lo compro a una certa cifra ho un interesse a comprarlo anche come B4. Perfetto. Qual è il valore eh e qual è il valore? Per cui tu hai detto come stiamo parlando di quattordicimila metri quadrati. Quattordicimila. Diciamo che sono diecimila utilizzabili va? Ok? Togliamo gli angoli, i piani, le scale e quant'altro. Noi entriamo nei dettagli. Ti è parlato di sette milioni di euro. Sì che è stato pubblicizzato no? Che è stata fatta una proposta e noi di agente immobiliare eh mi sono fatto quasi una risata e qualche agente immobiliare eh mi ha chiamato e ha detto ma veramente fanno? Questo è il senso. Non è giusto. Io ho detto guarda poi è scattato il meccanismo della visura di tutte queste situazioni della città eh si sono messi tutti a rincorrere eh dietro questa pioggia. Ma a tuo giudizio a tuo giudizio eh l'immobile eccolo qui lo facciamo vedere no? Anche ben rifinito all'esterno cioè stiamo parlando insomma di un immobile di prestigio al di là della metratura e dell'ubicazione. Ma quanto potrebbe non dovrebbe potrebbe essere venduto? Guarda io vi posso dare solo un dato un dato certo che a catastale stiamo parlando di diciannove milioni e passa. Diciannove milioni di euro a catastale. Valore catastale. Senza entrare come dicevi tu nella stima dettagliata. Poi logicamente nel momento in cui qualora fosse veramente eh l'indirizzo della vendita a quel punto ha fatto un lavoro eh in un certo modo. Allora Maurizio per intenderci per fare un attimo la sintesi eh un bene che eh da valore catastale vale diciannove milioni. Sì. Quindi voglio dire il valore catastale è il minimo dal quale si parte per ogni valutazione dell'immobile. Sì. Perché viene fuori questo sette milioni? Cioè. Ah questo non lo so. Questo è un sette milioni che è stata fatta come si evince dalle testate giornalistiche da tutti questi chiacchiericci che ci sono eh in città ormai da penso che abbiamo superato anche la settimana e non lo so. Boh non non me lo so spiegare perché è uscito fuori questa. Cioè tu da giocchi immobiliare a un tuo cliente quell'immobile lo faresti vendere a sette milioni? Guarda eh. Cioè se il tuo cliente è venditore non l'acquire assolutamente no. Cioè arriva da tempo e dice voglio vendere l'immobile a sette milioni. Tu che fai? Dici sei pazzo vai vai fuori. Ma non è ma nemmeno il pazzo la venderebbe a sette milioni. Quindi perciò quindi cioè stiamo parlando del ecco perché io dico il fumo nell'occhio. Cioè questa mi sembra un'altra trovata una tecnica politica maramente consolidata. Cioè come dire mi sembra che viene utilizzata eh come strumento per fare delle cose che ancora non ci arrivo. Ecco. Benissimo. Allora tutto quello che abbiamo detto diciamo che è una grossa novità rispetto al dibattito attuale. Abbiamo dato delle notizie importanti ma non finisce qui. Non finisce qui perché? Perché il tribunale potrebbe avere un vincolo di natura diversa. Non soltanto urbanistico ma addirittura storico e archeologico. Perché? Ma secondo me ce là non è che potrebbe. Ha un vincolo storico e archeologico in quanto oltre a quello che c'è sopra il terreno, quello che vediamo la bellezza quindi eh dalla pianta che tu stai mostrando c'è qualcosa anche al di sotto o meglio quello che si cela sotto al tribunale e diciamo che ormai in passato eh non so non mi ricordo vagamente si parlava di un di uno scavo per dei garage a fianco al tribunale cioè partendo dal di fronte più o meno diciamo le ex post ecco come come idea. Esatto. E furono fermati quei lavori? Eh non ho seguito la vicenda quindi non posso mettere veramente non so il motivo e perché non no non so nemmeno se hanno proprio iniziato si parlava soltanto di questa cosa ma sappiamo per certo che sotto al tribunale quindi tutta quell'area ok che va da Corso Garibaldi arriva fino a piazza Flavio Gioia noi sotto si nascondono dei resti di una necropoli romana quindi eh io mi auguro e spero eh tanta roba oggi eh davvero tanta roba nessuno nessuno veramente allora il tribunale è uscito fuori vabbè e credo e spero che non verrà venduto anche se se dovesse essere così il futuro parliamo eh il lo Stato dovrebbe emanare un bando pubblico quindi eh dopo una perizia dei tecnici eh dopo che è stato veramente calcolato un valore eco e reale e poi c'è una vendita fatta in modo eh seria ecco giuridica se vogliamo non così eh da giorni diciamo che a a Maurizio Basso candidato sindaco cittadino e agente immobiliare la procedura i valori i termini le condizioni non ti convincono no no non è che mi convincono posso metterci la firma che è inesatta ok e non è assolutamente corretto tutto quello che è stato detto assolutamente bene insomma abbiamo fatto io sono sicuro che questa intervista farà discutere per i documenti che abbiamo mostrato che tu insomma hai ottenuto ma sono documenti tra l'altro che una documenti pubblici quindi quindi qualunque altro amministratore pubblico avrebbe anzi credo che li abbiano già forse non li hanno letti attentamente diciamo forse. Tieni presente che a fianco Mario c'è la scuola che di proprietà del comune. Ah quindi infatti ecco la stazione. Dopo la X. A fianco alla destra della X per intenderci. Mi dispiace che conosco bene la città Mario eh sono venticinque anni che cammino sopra al suolo ho scoperto pure quello che c'è sotto che non viene valorizzato. Va bene. Bene. Io ti ringrazio Maurizio per questa intervista ovviamente eh torneremo a discutere con te anche di altri temi appuntamento alla prossima settimana grazie a chi ci ha seguito grazie a chi ci seguirà in replica e arrivederci e buona giornata. Grazie a tutti.